E del resto vede, a me ha divertito molto, ha divertito nel senso, io ho guardato in maniera abbastanza distratta la vicenda che riguarda il papà di Di Maio, però una cosa va detta, il papà di Di Maio che risulta nulla tenente, a marzo prende il reddito di cittadinanza e se Di Maio non è stato in grado di controllare a casa sua, diciamo, il corretto svolgimento delle norme italiane, è difficile che lo Stato italiano ci riesca in così poco tempo. Questo è un rischio oggettivo, poi invece è normale che ci sia un'Italia, per come la penso io, che invece spera in un'iniziativa di questo tipo. Io continuo a dire che non è risolutiva.